Gestione dei rifiuti, ottimizzazione del traffico, gestione di parchi e giardini, mezzi di trasporto più efficienti e contrasto alla violenza sulle donne e alla criminalità organizzata. Hanno le idee chiare gli studenti che stamane hanno preso parte al Consiglio Comunale dei Ragazzi. L'iniziativa, giunta alla quarta edizione, ha permesso a studenti di scuole elementari e medie di vivere da protagonisti l'assise di Via Verdi, fare proposte, dibattere sugli argomenti più scottanti dell'attualità e redigere un vero e proprio verbale che sarà consegnato nelle mani del sindaco di Napoli Luigi De Magistris. A riceverli nell'aula consigliare è stato, come nelle passate edizioni, il vicepresidente del Consiglio, Fulvio Frezza. Creare questo rapporto fra istituzioni, scuole, associazioni, coinvolgendo i ragazzi che sono il futuro della nostra società e quindi sono quelli che devono essere propositivi, ha portato una serie di proposte che forse non ci aspettavamo nemmeno. Quindi questo percorso che continuiamo e che è legato a un progetto che si chiama Avamposti di Legalità, gestito dall'Associazione La Fenice e dalla Preside della Scuola, anche oggi porterà una serie di proposte e di iniziative che vengono dai ragazzi e che sono frutto di una maturazione di idee e di percorsi all'interno della scuola e di contatto con il territorio. L'iniziativa è organizzata nell'ambito del progetto Avamposti di Legalità, curato dall'Associazione La Fenice e Volontari del Mondo, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale XXVI in Briani Sant'Alfonso dei Liguori. Al di là di questo evento specifico, l'associazione ormai lavora da più di 4 anni con l'ONU in collaborazione con dei paternariati dentro e fuori la scuola, quindi sia nelle aule scolastiche che con progetti di recupero della dispersione, quindi cercando di lavorare sui bambini un po' più in difficoltà, quelli che non riescono a restare in classe con lo studio tradizionale, quindi vengono coinvolti in progetti anche di giardinaggio, di rispetto del territorio, di rispetto dell'ambiente. Una scoperta, l'anno scorso hanno fatto un'attività di esplorazione sul territorio, uscendo fuori anche con macchine fotografiche, documentando e poi portando nelle sedi istituzionali i disagi presenti sul territorio. Quest'anno abbiamo integrato, diciamo ex novo, il consiglio di municipalità che abbiamo tenuto con i ragazzi di prima e seconda media, mentre invece questo è il consiglio comunale che ormai va avanti da 4 anni con i ragazzi di terza, scelti un po' tra tutte le sezioni dell'istituto e poi una quinta dello stesso subietto istituto che è un comprensivo, quindi cerchiamo di dare un po' anche delle notizie, anche se magari arrivano poche cose, poche notizie, è bene che i ragazzi si abituano sin dall'infanzia a riceverle.